Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Off Samuel e oggi sfideremo in una partitella a calcio 100 bambini Ovviamente non sarò solo ragazzi, ma si svolgerà un 2 contro 100 e adesso vi voglio presentare i miei compagni E' lui, lo conoscete già, si chiama Pierino, mi ha battuto tante volte sul canale No, no, non è vero, sul tuo canale mi hai battuto, quindi sul mio canale sono ancora imbattuto Pier, sei pronto o non sei pronto? E sono pronto, dove sono questi 100 ragazzi? Sento un po' le loro voci, i loro schiamazzi, siamo pronti a fargli il culo No, dai, poverino, sono bambini Il culetto, scusate Passiamo subito al prossimo ragazzi, voi lo conoscete già, è mio fratello, that's easy, non è un calciatore ma è un ballerino, eccolo qui È quello bello, è fratello quello bello No, 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 sono io quello bello, ok? Sono io quello bello E ora ragazzi, una new entry direttamente dalla seconda divisione inglese, lui è Yasso, il fenomeno di Londra Allora ragazzi, non parla italiano, parla solo inglese, ragazzi, non chiedeteci come abbiamo fatto a portarlo qui, ma è qui ragazzi Are you ready, man? Are you ready? Remember, Elisabetta non mi chino Due contro cento, noi potremmo fare dei cambi, loro invece no perché sono già in cento Avremo a disposizione tre porte dove possiamo segnare due piccoli agli esterni e uno centrale, è la porta grande, ok? Due tempi da 15 minuti e chi avrà segnato più i gol in questi due tempi avrà vinto questa partita Ragazzi, tutto chiaro? Let's go! Ragazzi, fanno veramente paura, ma quanti sono? Ma troppi, fratello Ma quanti sono? Troppi Sono quasi quanto i fratelli di Samuel, è quasi Partiremo io e Isaac contro questi cento bambini Ragazzi, siamo qui oggi per il grande giorno, ci siamo preparati un intero anno Abbiamo radunato tutte le categorie in questa giornata per affrontare loro Molti li conoscete, però oggi dovremmo fare una grande partita tutti assieme Sì, vinciamo Tutti insieme Uno, due, tre Partiamo noi con la palla ragazzi Due contro cento bambini Ma quanti sono ragazzi, oh mio Dio Chi sei Isaac? No Ok Tre 3, 2, 1, via! Passa! 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 Ma perché? Dobbiamo fare il gol all'altra porta, Isaac! No! Via, via, via! Fermo! No! Che è successo? 1-0 con il numero 5, come i suoi anni, Cristian! Ok, via! Si va, attenzione! Allora, Samu con la palla che prova ad avanzare, mamma mia ragazzi! Mamma mia che visione! Oh, bellissimo Dreaming, il pallone d'oro di YouTube Italia contro 100 ragazzini che prova a involarsi nell'aria avversaria ma viene fermato, anzi, torna indietro, attenzione! Vediamo se farà la stessa errore di Isaac cercando di farsi autogol si sta rivelando tutto molto più difficile di quanto previsto Allora, Samu la riprende la palla, non so in che modo ma la perde con la velocità della luce ma la ririprende, la ririperde allora, attenzione ragazzino, che butta la palla fuori Come hai fatto a sbagliare! Attenzione Isaac che riparte vediamo, e beh, c'è la mente basta un solo ragazzino per prendere di palla non serve scomodare gli altri 99 attenzione, fallo da parte degli avversari si sta tramutando in una partita di rugby attenzione Samu che recupera il pallone non so in che modo Samu che si invola nell'area di rigore avversario Samu entra dentro la porta e la butta dentro 1-1, c'è il gol del pareggio eccola qua, la firma del pallone d'oro di YouTube Italia 1-1 voi state zitti adesso, non parlate più non parli più vai, io ho riso a fare il pollo bene, non c'è ora vai, io ho riso a fare il pollo che è stato, Isaac che è stato, indicacelo è stato lui, vero? sei stato tu a fargli male vediamo tutto bianco, non me lo so vuoi continuare? vai, 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 vai Isaac, che zoppica prima aveva tre gambe, ora ne ha solo due io è stato? io, io scrivetelo qui sotto nei commenti secondo voi che è stato a fare male a Isaac cambio entra il nostro Yasuo direttamente dalla seconda divisione inglese are you ready man? I'm ready come on Samu sta andando ad arruolare un giovane portiere ci siamo rinforzati neo acquisto in casa MSP come ti chiami? Roberto Roberto magazziniere della Monte San Pietro Calcio ammagazziniere ragazzi non ce n'è ammagazziniere come noi dai are you ready? sei pronto? dai andiamo un magazziniere da prima categoria e stanno arrivando come dei veri gladiatori allora abbiamo il nostro Raheem Serling che ne scarta uno, ne scarta due mamma mia che fenomeno li scarta tutti come delle caramelle nessuno riesce a prendere il pallone la palla che rimane incolata ai suoi piedi ma gli viene finalmente tolta io giocherò dopo e quando vengo a giocare io ragazzi faccio il culo a tutti allora attenzione Samu che recupera il pallone è una bolgia ragazzi una bolgia di ragazzini che si involano verso l'aria prova il tiro e la palla entra e arriva il gol del 2 a 1 del 2 a 1 tu non hai fatto niente vai via tu non centri niente siamo sotto ma stiamo adottando delle tattiche ci sei Yasuo? ok siamo in gestione della situazione ragazzi il portiere è pronto Samu è pronto l'inglesino anche quando vuoi si può ripartire tutti sulla linea mancano 5 minuti alla fine del primo tempo ricordiamo via ripartono allora i nostri due campioni attenzione provano uno schema scatta in avanti vediamo Samu se riesce a raggiungerlo col pallone bellissimo lancio e la palla entra che gol come ha fatto Samuel assist incredibile in mezzo a 100 ragazzini pallone d'oro mamma mia mamma mia ragazzi ve l'avevo detto ho tutto da rifare tu non hai ancora toccato un pallone no io l'ho toccato tu li hai toccati? è solo l'inizio è solo l'inizio infatti ne prendete altri 5 tranquilli ragazzi è alquanto grave quello che è appena successo ha preso un calcio in faccia da un bambino no guardate no vieni qua wow ragazzi mi sa che non tornerà più in inghilterra ha preso un calcio in faccia da un bambino è così e abbiamo già la miniatura di questo video e allora si ricomincia dal risultato per 2 a 2 mancano 3 minuti alla fine del primo tempo allora attenzione chi è che ha il pallone? non si capisce il pallone tra l'altro è giallo su idea di Samuel che confonde con i ragazzini attenzione calcio d'angolo allora vediamo qualcuno se scatta di testa allora attenzione attenzione prova ma la palla va fuori si disperano tutti abbiamo capito che smarcarli è un po' difficile in centro però possiamo adottare il lancio lungo e allora attenzione è là in fondo è difficile dargliela go go my friend go friend ok ci riprova Samuel se ci riesce anche stavolta giuro che vado a casa la palla che gli arriva vado a casa ragazzi vado a casa grandissimo gol grandissimo gol ma che lanci che fa Samuel mamma mia neanche Luca Modric si mamma mia abbiamo un gol a door e un uomo assist eccezionale per questo 3 a 2 2 su 2 ragazzi mamma mia oh te l'ho messo via of course mamma mia è di nuovo a lui la palla occhio però il contropiede micidiale ripartono i ragazzini che non devono sprecare l'occasione gol 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 proprio a lui 3 a 3 e allora fine primo tempo che partita wow non me l'aspettavo that's good no? yeah yeah all right man ok ok ragazzi ok andiamo a bere un sorto d'acqua ci siamo 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 pronti per questo secondo tempo ci sono delle sostituzioni in ballo quindi entra Pierino la coppia di fratelli Pierino e Gnabri i ragazzini sono tanti ma mai quanto i gol che li faremo abbiamo già una tattica che cercheremo di adoperare a inizio partita quando vuoi e allora si parte ragazzi sono partiti Pierino e Gnabri contro 100 bambini attenzione prova lancio lungo subito Gnabri subito Pierino attenzione attenzione i bimbi dell'MSP ancora MSP MSP uh passaggio cross in mezzo tira gola incredibile incredibile non va bene la tattica è fallita ma ci riproveremo ok ci rinforziamo due portieri speriamo di non prendere gol perché se finisce così finisce veramente male per noi piano piano abbiamo una tattica B questa funzionerà ok se no abbiamo la C la D e ne abbiamo ancora ne abbiamo ragazzi Gnabri sei pronto eh via allora riparte Pierino prova il passaggio Pier si è buggato il joystick mamma mia prova da difendere il tiro paratona è parata attenzione vediamo se Pier e Gabri riusciranno a segnare oppure niente attenzione 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 serie di scambi palla in mezzo il tiro paratona quale tattiche stanno un po' andando a farsi benedire ma manca da 5 minuti eh vi dico solo questo Gabri 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 serie di numeri in mezzo a 5 mezzo a 4 mezzo a 3 mezzo a 2 mezzo a 1 Gnabri prende palla lancio lungo due minuti alla fine di questo secondo tempo e si concluderà la partita allora ascolta vieni qua giochi un attimo la palla secondo te ci sta questa palla lo fai così ragazzi ho fatto tutta la rimessa l'ha toccata l'ho presa e sono andata a segnare tutto vario il bambino è tanto confuso intanto sono già ripartiti un minuto 5 4 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 6 6 6 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 9 9 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 18 19 20 19 20 21 21 21 22 24 23 23 25 27 parlare non li sento come succede mi chiede la battuta sezione michele gol sono ancora vissi sezione samuel allora grande pressione portiere non devi pararla ma ti contro samuel rigore importantissimo lunga ricorsa per matti ma l'avevi presa solo per combini ma era già tua o samuel off radu no sbagliamo abbiamo perso gli apri una bella responsabilità c'era la tua rincorsa come fa in partita lenta vabbè oh ok adesso sta sarà signori sarà un bel rigore importante ok classe 2008 beh sarà un bel rigore lo scoprirò attenzione tiro gol mamma mia che bel tiro e allora attenzione di nuovo se sbagliamo abbiamo perso allora ragazzi come devo tirare decidete voi ovviamente loro sono più piccoli mi è stato chiesto di mettere una difficoltà avanzata ma per me ragazzi sarà un gioco da ragazzi ragazzi gioco da ragazzi ma ragazzi a ragazzi si scopa di gommerei ragazzi a ragazzi si scopa di gommerei si scopa di gommerei si scopa di gommerei si scopa di gommerei solo perchè mi hanno ombligato a tirare di tacco E allora ragazzi, l'MSP Kids vince questo 2 contro 100! Commentate qua sotto se volete che noi veniamo nella vostra città a sfidare le vostre squadre, quindi verremo da voi e vi sfideremo. E vedremo se riuscirete a batterci di nuovo come hanno fatto questi bei ragazzuoli giovani. Ma si devono iscrivete o no? No! E comunque hanno parato!